Cessione del credito e sconto in fattura La cessione del credito e lo sconto in fattura sono due opzioni che il 110% mette a disposizione dei cittadini e che per loro sicuramente è la novità più importante e quella più interessante per poter sfruttare tutte le potenzialità di questo strumento. Questa opzione così importante può essere attivata o da un generale contratto o da un'impresa che si accoglie l'onere della cessione del credito maturato e attivi lo sconto di fattura in fattura relativa. Se volete maggiori informazioni sugli argomenti che stiamo trattando, contattateci qui! Grazie a tutti!